Io devo dire che sono emozionato, rimanete qui perché sono veramente contento di essere tornato a quello radio e devo dire che tutti i comici sono contenti e mi cercavano tutti Ma che cazzo ti ha chiamato? Ma oggi è stato bello avere, è la prima volta che abbiamo Gai Oricchione in traslitto C'è anche un cartello di pupini per asciugarlo, può fare una cosa asciutta Chi ci dorme, o muore o rimane lì Gai Oricchione Io ci ho dormito